Il primo gennaio 2025 è la data fissata per l'uscita nei cinema italiani di Nosferatu di Robert Eggers, uno degli horror più attesi degli ultimi anni. Dopo gli ottimi The Witch del 2015 e Lighthouse del 2019, c'è grande curiosità per gli appassionati del genere per il ritorno all'horror della regista, dopo la parentesi vichinga con The Northman del 2022. Il Nosferatu di Murnau è uno dei film preferiti di Eggers, non sorprende quindi che ne abbia realizzato una sua versione. In teoria doveva essere il secondo film di Eggers dopo The Witch, ma il regista e sceneggiatore new yorkese ha incontrato diverse difficoltà e non era sicuro di riuscire a girare uno sferato. Infatti in un'intervista del 2022 diceva, sto iniziando a pensare che Murnau non voglia che si faccia, sembra sia difficile realizzare il progetto e non so il motivo, credo che Erdog avesse il diritto di riuscire a realizzare il remake, forse i fantasmi di Murnau e Albin Grau mi stanno chiedendo di smetterla, non lo so, vedremo. Albin Grau era il produttore e scenografo di Nosferatu. A progetto completato, Eggers ha ammesso che in questo film ha cercato di andare oltre le sue capacità, realizzando riprese difficili e l'ha aiutato molto anche l'esperienza fatta girando The Northman. Ha poi aggiunto, quando penso al piano di produzione di Nosferatu mi stupisco di come siamo riusciti ad arrivare in fondo, quindi si è trattato di una vera e propria impresa. Non si sa ancora molto del film, ma due degli attori principali l'hanno commentato così, ho visto dei pezzi, non ho avuto un'idea precisa del film, ma è girato meravigliosamente, non riesco a pensare a un altro film che abbia un aspetto simile. Ha detto William Defoe, che interpreta il professor Albin Eberhard von Franz, che immagino sia il professor Van Helsing di Dracula. Bill Skarsgård, che si è cimentato nel ruolo del conte Orlok, cioè di Dracula, ha detto che è stato come evocare il male puro, mi c'è voluto un po' per scrollarmi di dosso il demone che aveva evocato dentro di me, è disgustoso, ma è anche molto sessualizzato, la speranza è che vi sentiate un po' attratti da lui e allo stesso tempo disgustati proprio per questo, insomma delle parole che incuriosiscono e fanno venire voglia di guardare il film. Ora intanto guardiamo insieme il trailer. Vieni da me, vieni da me, ti sto chiamando, vieni da me. Professore, sogno l'oscurità, il male nasce dentro di noi o viene dall'altilà. Lui sta arrivando. Sta arrivando. Lui sta arrivando da noi. Sta arrivando. Chi? Chi è che sta arrivando, figlia mia? Siamo qui per incontrare il vampiro. Non ho sperato. Dal trailer possiamo notare come Eggers si sia giustamente affrancato dal capolavoro di Murnau, le cui atmosfere restano iniguagliabili, girando nella nuova versione che non risparmia tensione, sangue e violenza, ma con la consueta maestria nel curare la fotografia e le scenografie che da questi brevi sequenze si intuiscono di alto livello, come poi lo erano nei suoi lavori precedenti. Ottima anche la scelta di non mostrare il volto del vampiro, lasciandoci la curiosità di scoprirlo al cinema. Sarà più vicino all'orlok di Mark Schreck e Klaus Kinski, avrà il fascino di Bela Lugosi nel Dracula di Browning o guarderà il Dracula di Christopher Lee? In realtà un paio di locandine anticipano l'aspetto del mostro che appare nella prima più demoniaco e nella seconda più seducente, lasciandoci ben sperare. Concludo questa breve presentazione soffermandomi sulla frase centrale del trailer. Il male nasce dentro di noi o viene dall'altilà? Con questa semplice domanda Eggers ci prepara a una visione che non sarà intensa solo sul lato emotivo, ma si promette di indagare il lato oscuro dell'umanità e chissà, forse, di rivelarne gli abbaglianti sprazzi di luce, come solo i grandi horror sanno fare.